Cari ascoltatori di Radio Puginioner, oggi abbiamo una notizia emozionante per tutti gli amanti della musica indie e delle profonde riflessioni sulla vita contemporanea. Il talentuoso cantautore Fulminacci è tornato con un nuovo singolo che promette di stimolare le menti e i cuori. Filippo Leroy, il suo ultimo brano, sarà rilasciato tra pochissime ore alla mezzanotte del 15 settembre. Questa canzone segue la scia dei suoi precedenti successi come Tutto inutile, Ragù e Simile e continua a esplorare le intricanti dinamiche sociali che caratterizzano il nostro tempo. Ma cosa significa davvero il testo di Filippo Leroy? In questo brano Fulminacci continua il suo esame attento del modo in cui le persone interagiscono nell'era della sovraesposizione. Tuttavia la verità che emerge è piuttosto intrigante. Tutta la verità è solo una stupida bugia. Beato chi non la sa. La canzone ci pone delle domande essenziali sulla nostra identità. Io sono veramente così o sto solo imitando l'idea che ho di me o il modo in cui qualcun altro mi desidera e mi disegna? E soprattutto quale di queste opzioni è quella giusta? Ma attenzione, in questo testo non troverete risposte definitive. Al contrario, c'è una continua alternanza tra autocelebrazione e relativismo pessimista. Fulminacci ci sfida a riflettere sulla complessità della nostra esistenza in un mondo sempre più connesso e complesso. Mentre aspettiamo a mezzanotte il rilascio di Filippo Leroy, ricordiamo che Fulminacci ha anche annunciato una serie di emozionanti date del suo tour. Dopo due anni tornerà ad esibirsi dal vivo e questa volta persino in un palasport. Le date del tour sono le seguenti. Il 4 aprile 2024 Milano, Fabric. Il 9 aprile 2024 Venaria Reale, Teatro della Concordia. 12 aprile 2024 Napoli, Casa della Musica. 13 aprile 2024 Roma, Palazzo dello Sport. Il 18 aprile 2024 Firenze, Tuscany Hall. 22 aprile 2024 Bologna, Estragon. Il 24 aprile Padova, Gran Teatro Geox. Sarà un'occasione imperdibile per vivere la magia della musica di Fulminacci dal vivo. Per ulteriori dettagli sui biglietti visitate il sito www.magellanoconcerti.it E così, cari ascoltatori, siamo pronti per un nuovo capitolo nella carriera di Fulminacci. Restate sintonizzati con Radio Puggini On Air. Iscrivetevi al mio canale YouTube Marco Puggini e ricevete le notifiche cliccando sulla campanellina. A voi non costa nulla, a noi fa piacere e soprattutto è importante per poter continuare a fare quello che facciamo per cui sosteneteci in tutti i modi possibili se volete. Ci riascoltiamo nella prossima puntata di Radio Puggini On Air.